e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti dovrei essere in live in questo momento ma twitch ha deciso di non collaborare ho letto sul loro twitter ufficiale che hanno dei problemi interni e allora io visto che non vi posso abbandonare ci sono delle notizie importantissime ragazzi oggi veramente ho trovato alcune chicche pazzesche quindi vi tengo compagnia con questo video dove andiamo ad analizzare la situazione di mercato che oggi sta vedendo un po di reazione interessante lato domanda e soprattutto davvero le notizie ce ne sono alcune che vanno assolutamente lette stable coin sulla chain bitcoin vi dico solo questo possibile forse sì ci sono alcuni sviluppi poi vabbè lato macroeconomia anche lì ci aggiorniamo con la situazione delle valute internazionali che a parte il dollaro stanno colando a picco inflazione altissima ovunque e tant'è che ci sono alcuni dati interessanti su alcuni stati le cui valute stanno appunto si stanno indebolendo tra cui l'europa e la gran brettagna regno unito che stanno comprando più bitcoin del solito quindi andiamo a fare un po il quadro della situazione il tutto condito con un po di grafici non vi abbandono nemmeno oggi seguitemi e andiamo a tuffarci in queste questi update ve lo ripeto ancora saranno interessanti ed eccoci qua che quando qualcosa può andar storto ovviamente lo fa e quindi non niente oggi la live è saltata ma ripeto vi volevo tenere compagnie allo stesso facciamo questo recapino di un quarto d'ora 20 minuti dove andiamo ad analizzare comunque la situazione vi ho trovato alcune chicche qui che vedete già in anteprima ma partiamo dall'analisi di mercato guardate bitcoin come si sta muovendo istericamente sono tornati anche un po di volumi sui derivati proprio in prossimità dei 18.900 la zona di supporto maledettissima che sempre insomma sta è al centro dell'attenzione no ultimamente è diventato quasi un attrattore di prezzo abbiamo visto quanti volumi si sono generati qua nell'intorno proprio di questa zona oggi non vedete il volume profile perché mezz'ora fa succede tutto veramente contemporaneamente quando una cosa può andare male ne vanno male 10 mi è scaduto l'abbonamento di trading view e c'è un problema col rinnovo quindi adesso lo andrò a rinnovare manualmente ma vabbè nel frattempo continuiamo comunque a dare un'occhiata dunque la situazione è la solita ovvero compressione sulla zona 19 18.900 fintanto che questa compressione non si risolve da una parte o dall'altra non non ci sono evoluzioni no abbiamo visto che le prossime date macroeconomiche importanti sono all'inizio del prossimo mese col dato sul cpi quindi adesso non c'è una spada di damocle no che ci va che ci grava sulla testa in qualche modo quindi c'è un po più di libertà per il mercato almeno per i prossimi dieci giorni poi si inizierà di nuovo apprezzare il famigerato evento volatile in arrivo comunque al momento la zona da tenere in considerazione è soprattutto questa abbiamo come low sempre i soliti 18.900 come high abbiamo i 20.200 proprio ieri guardate come li abbiamo pizzicati con un assorbimento totale perché se le cose stavano andando bene poi ha aperto il nasdaq in rosso e come al solito l'influenza che ha sul mercato cripto è gigantesca è veramente ormai è la cosa purtroppo che influenza maggiormente la price action quindi ci ha risbattuto in basso chiudendo una candela veramente brutta oggi c'è stato un follow up di offerta inizialmente ma la cosa positiva è che poi pure l'offerta è stata riassorbita guardate ora la domanda sta avendola meglio è una price action interessante tutto sommato perché riesce ad essere neutrale anche con questi schizzi isterici pertanto di nuovo non non attira certo la voglia di aprire posizioni se tuttavia dovesse esserci una tendenza poi a incrementare i volumi e a fuoriuscire da quest'area di sicuro potremmo andare a valutare uno dei due scenari direzionali cosa che adesso manca la direzionalità il primo in caso di fuoriuscita dall'alto sarebbe come target la zona 22.500 il primo high e nel caso di rottura la zona 25.000 il secondo high quindi questi sono un po gli step no dipende dalla forza con cui rompiamo retest rottura retest no questo è il classico scenario ideale se al contrario ci avviciniamo alle zone di resistenza con come ieri no con subito assorbimento di solito sono segnali negativi dall'altra parte abbiamo come sempre la chiusura che necessiterebbe pizzicare la liquidità 17.500 e poi chiudere sotto i 18.900 quella sarebbe quello sarebbe il segnale un po più forte di chiusura con perdita del supporto stesso andiamo a vedere alcune cose curiose perché purtroppo la price action non c'è molto altro da dire no è identica a com'era nei giorni scorsi si potrebbe ricamare tanto ma non non ne va la pena i target sono sempre quelli e quindi occorre seguire la fuoriuscita la direzionalità l'eventuale genesi di direzionalità per ethereum visto che siamo in fase di analisi price action anche qui abbiamo una lateralizzazione guardate stiamo lateralizzando dopo una leg down che ha perso un supporto importante quindi al momento siamo in trend di breve ribassista lower low al momento lateralità che deve decidere se andare a cercare il prossimo high oppure continuare a ribasso subito con un'altra leg down chiaramente un esito all'altro andrebbero a rendere più o meno forte no lo scarico se ci fosse un esito rialzista quindi andare a cercare un nuovo high avremmo un uno storno un po più debole e volendo per chi segue l'ipotesi di short anche una possibilità di short a un prezzo migliore conosco persone che stanno shortando in questo periodo con lo stop loss qua sopra ad esempio altra tipologia di posizione che prevede una continuazione ribassista e una ricerca di un low al momento più basso quindi uno scarico di nuovo continuo dipende sempre da quale ipotesi si vuole mettere in gioco e soprattutto dalla propria posizione complessiva in quanto il shortare ethereum ora come ora potrebbe essere visto anche come un'ulteriore copertura verso bitcoin copertura short anche nei confronti di bitcoin perché se ethereum bitcoin è ribassista e bitcoin di per sé magari stiamo cercando la copertura cercarla su ethereum è due volte più efficace qualora il trend si mantenga ok quindi questo è un po' il discorso sta di fatto che ritornare sopra gli 0073 sarebbe un ritorno no al un assorbimento di questa cosa di questa di questo costrutto di un ritorno alla struttura solita all'interno del range di top qua sopra e una struttura medio di medio termine più tendente al rialzista contro bitcoin insomma una cosa simile a questa no diventerebbe un frattale simile questa è la situazione ethereum invece una progressione ribassista avrebbe come primo target la zona 61 8 di fibonacci nonché questo supporto sono molto vicini la zona 00 62 63 diamo avanti adesso con un po di news interessanti guardate questo grafico guardate l'andamento delle principali principali valute mondiali abbiamo il dollaro che si rafforza continuamente e abbiamo tutte le altre valute che si indeboliscono e voi direte per forza questo è l'indice sono gli indici della forza delle valute che le rapportano l'una con l'altra vero ma questo ci sta semplicemente mostrando come tutte le valute in confronto al dollaro si stanno estremamente indebolendo l'euro la sterlina stiamo vedendo la sterlina in questi giorni collassare sotto i nostri occhi sta avendo dei dump pazzeschi dopo le ultime politiche no di abbassamento della pressione fiscale che di fatto genera ulteriore debito oggi la bank of england ha dichiarato che riacquisterà il debito quindi metterà in circolazione altre sterline perché se acquisti debito lo acquisti in cambio di sterline quindi questo va a creare diciamo una situazione molto instabile nel regno unito e non a caso guardate questa ricerca mostra come i volumi di bitcoin sia in euro che in sterline sono proprio schizzati in quest'ultimo periodo sono altissimi guardate dal 2020 non ci sono mai stati volumi di scambio così alti in euro e in sterline proprio perché le valute si stanno deprezzando quindi molti stanno cercando almeno parzialmente nessuno farà all in presumo ma stanno cercando comunque rifugio tra tante virgolette ma di fatto è così lo mostrano i dati in bitcoin il dollaro invece sta rimanendo il vero bene rifugio ora come ora perché perché molti stanno acquistando dollari di nuovo per fuggire dalle monete che si stanno svalutando acquistando dollari oppure bond americani e questo rafforza ulteriormente la posizione del dollaro che è molto estesa molto 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 estesa ora come ora questo è un po il panorama complessivo un dollaro così forte indebolisce gli altri asset e di conseguenza anche bitcoin si dovrebbe indebolire no quindi se ad un dollaro così forte bitcoin comunque dovesse reggere reggere bene il che vuol dire non continuare a svalutarsi non andare a perdere questi supporti no rimanere comunque tener botta anche in questa zona nel momento in cui il dollaro ritraccia mi aspetto comunque un bel respiro nel momento in cui l'inflazione americana inizia a calare le politiche monetarie della fed iniziano a inaspirsi un po meno mi aspetto un respiro di bitcoin quindi la modalità sopravvivenza cioè il fatto che bitcoin tenga duro non mi aspetto ovviamente una crescita ma un tener duro è già per quanto mi riguarda un buon segnale di forza visto il contesto internazionale in cui le valute stanno crollando contro il dollaro e gli asset stanno crollando contro il dollaro sta la partita è chi resiste meglio chi si dimostra maggiormente resiliente ad una fase di questo tipo bitcoin è ancora molto giovane ha molto da dimostrare ma questa è una bellissima prova è una grande prova banca centrale europea la lagarde dice la sua chiaramente con parole assolutamente disinteressate a favore delle cbdc quello che dice la lagarde è le criptovalute potrebbero aprire al rischio del free banking ovvero il non dipendere più dalle banche che per lei è un rischio ovviamente perché è un banchiere il rischio è suo ma da un punto di vista diverso questo più che un rischio è un'opportunità stiamo vedendo le banche centrali come ma anche storicamente sono state causa di parecchi problemi insomma non so chi ha letto il libro di bitcoin standard mostra bene anche come storicamente proprio insomma dal momento in cui è nato il modello a banca centrale a valuta fiat questo ha creato parecchie crisi e parecchi problemi e quindi giustamente per lei la lagarde dice ragazzi ci vogliono le cbdc mica le cripto perché le cbdc rimangono sotto legida delle banche centrali e quindi noi siamo tranquilli cara lagarde non è che sta iniziando a fartela un po sotto a capire l'obsolescenza il problema è che il genio è uscito dalla lampada ormai e quindi non ce lo rimetti dentro rimboccati le maniche perché sarà una bella sfida soprattutto considerando queste cose queste cose no twitch non c'entra niente e insomma stiamo vivendo una fase storica veramente importante importante sotto tanti punti di vista sotto il punto di vista di molte valute che si stanno indebolendo sotto il punto di vista che stiamo vivendo una crisi geopolitica e anche economica crisi energetica conflitti pandemia svalutazione delle monete il politiche di rialzo dei tassi ormai in tutto il mondo è un contesto storico veramente fragile oserei dire e sono curioso genuinamente curioso di vedere come si svilupperà il ruolo che bitcoin avrà in tutto questo perché insomma alcune alcuni dati iniziano a far capire che il ruolo di bitcoin inizia a essere un po più chiaro sempre più chiaro io credo no d'altronde è nato nel 2008 è nato teoricamente proprio per questo è ancora molto immaturo per ricoprire questo ruolo ma ma insomma nel tempo lo vedremo non so cosa ne pensate voi fatemelo sapere anche nei commenti passiamo a alcune notizie le notizie importanti allora ce ne sono tre dunque la prima è questo progetto molto interessante che vale la pena seguire non si tratta di un token non c'è token non c'è niente è un exchange di opzioni decentralizzato si chiama a evo si basa su ribbon finance che è un il protocollo di prodotti strutturati basati su opzioni maggiormente usato in defi si parla di 10 billions di volumi di opzioni vendute nell'ultimo anno e a evo sarà costruito on top quindi se ribbon era uno strumento dove si dava liquidità e lui faceva da underwriter quindi creava i prodotti in questo caso ci sarà un order book a tutti gli effetti sarà un exchange a tutti gli effetti e andrà a rientrare in quello che secondo me è uno dei prossimi trend della defi che è quello dei prodotti derivati e strutturati quindi attenzione seguitelo con interesse uscirà nel q4 2022 quindi a fine anno e basta e sono curioso di vedere se magari in futuro integrerà un qua c'è un uno sneak peek guardate che figata sono curioso di vedere se integrerà qualche token che magari riflette valore per ora non c'è nulla però attenzione perché stiamo parlando di quel trend di valore reale all'interno della defi seconda notizia comunque abbastanza importante secondo me christis che è la casa d'aste più grande al mondo quindi non parliamo di uno scappato di casa lancia christis 3.0 che si occupa di fare aste completamente on chain su ethereum e questo cosa ci dice ci dice allora innanzitutto che gli nft non sono morti che che se ne dica sono calati i volumi è vero ma perché erano in bolla non aveva senso il volume degli nft che c'era in piena bolla nft vi ricordate c'era l'nft di morgan c'erano cose che fanno rizzare i capelli senza nessun senso ed è giusto che crolli quella bolla lì però gli nft sono qui per restare e resteranno player come christis lo dimostrano nell'interessarsi proprio al settore altre notizie un po minori abbiamo sem quindi ftx che forse potrebbe interessarsi ad acquistare gli asset di celsius e se così fosse ci potrebbe essere nuova liquidità a disposizione per gli utenti vediamo da insomma io se fosse un utente lo spererei perché di fatto significherebbe avere qualche probabilità in più no si è dimesso il sio di celsius recentemente e quindi c'è qualcosa insomma magari che bolli in pentola arriverà qualcun altro inserito da qualcuno lo vedremo vedremo cosa accade ma soprattutto occhi puntati sulla possibilità che ftx acquisisca gli asset in questione perché poi lui ti dice bene ora tutti i clienti aprono un account su ftx e si trovano lì la loro liquidità il buon la buona vecchia volpe no che anche vinto la lasta per gli asset di voyager quindi sta facendo piazza pulita di tutti i lender se li incorpora tutti quanti sempre parlando di lender abbiamo parlato ieri con un dirigente di nexo che insomma è stata una chiacchierata interessante gli ho fatto le vostre domande sono uscite cose insomma curiose avete fatto delle belle domande tra l'altro mi siete piaciuti se non l'avete ancora visto vi consiglio di recuperarvelo è un'oretta di chiacchierata dove appunto si esplora un po il loro business model cosa fanno come lavorano eccetera si parla di trasparenza anche temi scomodi e non è insomma è una cosa curiosa comunque una delle cose di cui abbiamo parlato è proprio questa hanno acquisito una minoranza di azioni in una banca regolamentata negli stati uniti la summit national bank e questa è una notizia importante perché perché questo fa sì che loro abbiano una banca di appoggio quindi volendo se vorranno implementare anche le assicurazioni bancarie insomma se riusciranno a unire le due cose sarà una roba forte e inoltre i clienti della banca potranno usufruire dei servizi di nexo quindi è una sorta di diffusione di attività molto interessante con molto potenziale in europa c'è in atto aspettate che ve lo cerco eu eccolo vedete nexo is also looking to acquire a stake in an european bank interessante anche questo perché anche in europa potrebbero seguire la stessa strada molto molto valido insomma ora come ora si sta muovendo bene vediamo soprattutto visto anche che nei giorni scorsi alcuni regulator americani gli hanno un po' rotto le scatole ma questo credo che sia anche una mossa in questa direzione nel cercare di regolamentarsi poi questa è la notizia bomba ragazzi questa è una bomba lightning labs ha rilasciato una prima versione del codice di taro taro è di fatto una sorta di layer 2 vediamolo così finalizzato a portare asset sul sulla chain bitcoin utilizzando taproot che è uno insomma una delle implementazioni dei protocolli interni a bitcoin che permette diciamo di di fare cose in più al di là delle banali transazioni no quindi l'integrazione di nuovi layer 2 apre altre possibilità e magari lo approfondiremo tecnicamente magari inviteremo qualcuno che è più tecnico di me su bitcoin e ne parleremo ma questa sarebbe una bomba una bomba la possibilità di andare a creare stable coin sulla chain bitcoin che utilizza la sicurezza di bitcoin con un layer 2 simile a lightning no per capirci quindi va seguita come cosa è un inizio un primo rilascio però è un passo avanti vedete per bitcoinizzare il dollaro e sarebbe tanta 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 roba perché di fatto avere la sicurezza di bitcoin il sottostante come sottostante il protocollo bitcoin immaginatevi il le applicazioni in ambito payments proprio anche no e sarebbe veramente un qualcosa di enorme questo io la vedo come una notizia potentissima non so cosa ne pensate voi quindi gli sviluppi vanno avanti che che se ne dica bitcoin non è morto è tutt'altro che morto è lì vivo vegeto e in pieno sviluppo stiamo vivendo ripeto un periodo storico nel quale vedremo quella che è la vera utilità di questi sistemi no la possibilità di avere una in parallelo una scelta un'alternativa no non un'imposizione un'alternativa la valuta fiat è un'imposizione bitcoin è un'alternativa e quindi sono curioso di vedere questa alternativa se verrà scelta oppure no sta a noi deciderlo con questo io vi faccio un carissimo saluto ci rivediamo venerdì in live sperando che twitch nel frattempo si sia ripiato e vi faccio una vi auguro buona serata alla prossima e vi faccio un'alternativa